Prima del 2019, il tema degli affidi di minori era pressoché sconosciuto all'opinione pubblica e ignorato da politici e media, pur essendo un'istituzione dello Stato italiano in vigore già dal 1983. È di quell'anno, infatti, la prima legge varata per disciplinare l'affido familiare, un provvedimento temporaneo per tutelare bambini e ragazzi minori che si trovano in situazioni di instabilità familiare e che vengono affidati ad altre famiglie o ad una comunità di assistenza pubblica. Ma la mattina del 27 giugno del 2019 esplode un caso giudiziario destinato a tenere banco per mesi su giornali e televisioni e ad entrare nell'immaginario collettivo con il nome della località di Bibiano, comune della provincia di Reggio Emilia a cui facevano riferimento altri centri dell'Unione dei Comuni del Val d'Elsa. Qui la Procura aveva aperto un'inchiesta per far luce su una nutrita serie di denunce per abusi sessuali e violenza ai danni dei minori registrati dai servizi sociali di quei sette comuni. Il sospetto degli inquirenti era che, dietro a denunce e relazioni falsificate e attraverso tecniche di manipolazione ai danni dei bambini, amministratori locali, funzionari dei servizi sociali, psicologi e consulenti di una cooperativa sociale, ci fosse in realtà il tentativo di togliere deliberatamente a famiglie incolpevoli i figli per affidarli ad altre famiglie. Complice l'argomento molto sensibile, l'inchiesta deflagrò e il caso Bibiano divenne anche terreno di un feroce scontro politico da prima serata, contribuendo però anche a gettare un'ombra di pregiudizio e di diffidenza sui criteri di intervento delle istituzioni che regolano le procedure dell'affido. Poi, come sempre accade in Italia, i riflettori del clamore si sono spenti, ma il marchio Bibiano è rimasto scolpito nell'immaginario collettivo, come il luogo dove tolgono i bambini. In attesa che il processo arrivi a sentenza e permetta di stabilire una verità giudiziaria che confermi o ridimensioni la gravità dell'accaduto, la vicenda però ha messo in discussione il sistema dell'affido temporaneo, sollevando il dubbio che sia necessario rivedere norme, procedure e responsabilità di quanti, dai servizi sociali ai tribunali per i minori, hanno il compito di vegliare storie drammatiche e di sofferenza per poi decidere il futuro dei bambini.